buongiorno 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 a tutti ciao buona pasqua a tutti quanti da famiglia romeo da peppe e andrea saluta ciao 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 allora come va tutto bene come stiamo andata oggi la pasqua e oggi facciamo il video anche noi apriamo le uova davanti a voi è un po timida però adesso appena iniziamo aprire le uova si scioglie tutta 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 abbiamo visto tanti video la gente che apre le uova oggi tocca a noi giusto non parla timida quanti ne hai tu quattro quasi cinque a maggio quasi cinque parla timidina cosa abbiamo quella mimosa a pasqua 2018 ricordiamoci primo aprile 2018 abbiamo la mimosa abbiamo di ciupa ciupa gli ovetti abbiamo gli ovettini l'olivo di pasqua dove iniziamo con questo dai aprile cosa ci sarà adesso vediamo cosa c'è qua dentro cioccolato al latte buona pasqua con sorpresa prodotto dolciario italiano grazie a chi ce l'ha regalato perché ce l'hanno regalata e tanti quest'anno una cosa che mi piace proprio di parlare per l'uomo è molto영 ora parla con l'opera che ti sembia tickiamo l'uomo prima uomo wow 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 vabbè mettilo vi fai uno spacqua vai unico doggi fatto. Così però, non così. Dai, dai. Spacca, 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 spacca. Uuuuuh, vediamo cos'è. Pastelli, pastelli, pastelli. Mamma vuole un pezzo di cioccolato? Erika ci sta riprendendo, vuole un pezzo di cioccolato? Vai, assaggia. Mmm, buono. Molto buono. Abbiamo un pezzo? Pastelli. Bello. Pastello verde, bianco e quella cos'è? Arancione? Giallopatera. Giallopatera, scusate. Io con i colori fado poco. Non so se sono io o è lei, veramente, non ho mai capito. Chiudiamo. Tre minuti? Sì, facciamo veloce. E mia mamma abbiamo tanti vuoi da aprire, eh. Vabbè, lo apriamo dopo, sono pastelli, pastelli, pastelli. Poi, quello abbiamo? Quello delle principesse? Abbiamo quello delle principesse. eh, l'ho vista, l'ho vista, l'ho vista, l'Andrea, che ha preso il pezzo di cioccolato? Ti ho beccato. Oggi è Pasqua, ragazzi, auguroni, auguroni a tutti, buona Pasqua a tutti. Pasqua 2018, famiglia Romeo, famiglia Romeo, famiglia Romeo. E Santoro. Wow, che bello questo. Questo mettiamo a terra. Vai. Mi chiedi come l'anno scorso, ne abbiamo tanti l'anno scorso di questa qua. Dai, spazio. Che bello però, che scolare è bellissimo. Wow. Matite. Matite, giustamente. Matite. Ah, c'è anche le principesse dentro. Matite colorate e qualche fogliettino da disegnare. C'è scritto. Sì, c'è scritto Barbie Forever. Vuoi assaggiare quello? Mamma, vuoi assaggiare tutto? Ah, c'è anche il tempera matite dentro, per la punta. Guarda, il tempera matite. E' vero. Sì, perché? Io so. Se finisce la punta. Io so perché, perché? Guarda, adesso le principesse da colorare dentro. Tante? Eh, un po'. Ma tutte le stesse? Non sono le stesse. Queste due sì? Queste sì. No, sono diverse, guarda. Sono diversi. Tutti diversi. Vabbè, sarà Ariel, sarà non so chi, non so chi e non so chi. Eh, poi vediamo. Bello, bello, bello. Mettiamo le sorprese di qua. Adesso quale abbiamo? Quello lì? Passa, a favore. Ce la facciamo? Eh? Eh, ci stanno chiamando al telefono. Adesso non è il momento giusto. Non è il momento giusto che ci chiamano. Barbie, Barbie. Vediamo, vediamo cosa c'è. Vediamo cosa c'è. Ah, le carte, eh? Ok. Ci vuoi giocare dopo? No, ci vuoi giocare con quelle. Ok. Che era per qua, però con le... Oh, le carte, eh? Guarda. Sì. È incazzata? È incazzata? È incazzata? Da allora? Ah, sì? Wow! È incazione! Rosa! Sì, sì, Barbie. C'è scritto Barbie. Bello! Barbie, come è una mia? Bella! Wow! Che buon c'è! cos'è quello? una mini Barbie niente beh lo teniamo però adesso sono le istruzioni wow con la borsetta fallo vedere la telecamera Barbie bello bellissimo attacca e stacca di Barbie sono adesivi diventate a giocare con gli stickers wow fantastico mettiamolo qua certo ok bene il frattempo mangia la mia bimba il frattempo mangia vediamo questo oh che bello questo amore ci sono due più regali qua questo lo teniamo giusto? sì aspetta che qua è un po' difficile ma non è una borsetta stacco il plastico qua arriviamo e è una cosa un po' complicata aspetta che c'è un'altra le dico io quando attaccano queste cose sigilli su sigilli ok ok borsetta 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 sì ah ma scusa hai ragione allora tagli la plastica così vediamo la differenza nei doppi regali c'è sempre un casinotto l'abbiamo ok ok vediamo facciamolo vedere prima così guarda prima prima di tutto, Barbie, dopo, salve adesso, wow, arriviamo eh, arriviamo, che bello, quando vedrà, vincinano, wow, veniamo dentro, mettiamo un cissadino, poi qua dentro c'è la spugna per farlo tenere un po' dritto, ok, qua dentro si mette il cissadino, bello, come lo vuoi, così, o con Barbie? Cello, e tu? Barbie, e per Mario, ok, dipende di come devi abbinarsi, se devi abbinare la rosa, metti così, se devi abbinare la gialla, lo metti in quel modo, Bellissimo sto regalo, qua c'è un doppio regalo però, giusto? Sì Anche la carta è bella questa, eh? Oh oh! Nooo! Eh, quasi, quasi, quasi Aspetta, aspetta che altrimenti si spegge la tua foto Vai Vediamo Eeeh, cos'è? Il nuovo linguistico Il linguistico Il linguistico mi sa, vero? Sì Ragazzi, qua abbiamo cioccolato anche per l'anno prossimo Come ogni anno, raccogliamo cioccolato e tutto andare Per un anno intero mangiamo cioccolato Però facciamo anche torti, biscotti a Natale Oggi ceriamo, vero mamma? Che ci sta guardando Erika? No, è un appare ad attaccare al frigo, forse Sì Mh Verò? No Una calamita Vedera? segnalibri magnetici un segnalibro magnetico sai come funziona? quando leggi un libro e non vuoi perdere la pagina lo metti in mezzo ai fogli e l'occhioli così e ti chiedi la pagina quando stai ho bisogno di questo per quanto? perché? quello dei primi sono stati ok adesso? abbiamo gli oretti? il primo è il tuo prima il mio qual è il tuo? questo è il mio apritelo assieme non è che questo è un uovo aspetta grazie riteniamo i piacchetti come vuoi? sì e lo sapevo perché oggi è il primo di aprile il primo di aprile il pesce d'aprile è già fatto mamma il pesce d'aprile ci sta ma è solo? quindi possiamo mangiarlo? no è bello lo mangiamo un po' sei contenta Andrea? il pesce d'aprile è già fatto mamma va bene è sempre uova sola salutiamo facebook facebook youtube internet instagram apriamo pure questi e se no c'è troppo 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 tempo per caricarlo è un casino mi raccomando noi poi faremo altri video seguiteci da sulla nostra pagina youtube presto vi diremo un indirizzo giallo giallo papà giallo papà il cioccolato però metti lo diciamo al cioccolato così non lo togliamo e poi si fa tutto ok? una macchina e qua? due cose da costruire questa ce l'abbiamo già nooo la trottola adesso la costruiamo nooo 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 signori salutiamo buona Pasqua a tutti Andrea guarda buona Pasqua a tutti dalla famiglia Romeo da Peppe Erika Andrea un bacione ciao Luca ciao al prossimo video ciao ciao auguroni auguroni buona Pasqua buon 2018 buon pesce d'aprile un bacione ciao